Ben trovati con lo spazio a cura di Meteocalabria.net. Sarà un weekend contraddistinto da un generale miglioramento, salvo qualche fenomeno, fra sabato e domenica sulla Calabria centro-meridionale. Venti da nord in accentuazione. Sabato 12. Cielo in genere parzialmente nuvoloso-nuvoloso fino al pomeriggio, con solo la possibilità di qualche locale debole pioggia. Poi possibile nuovo peggioramento alla seranotte sulla basa Calabria e sul medio versante ionico, aree dove saranno possibili fenomeni sparsi fino alla mattinata di domenica. Venti deboli di levante tendenti a disporsi da sud-ovest moderati sul basso Tirreno in serata e da nord-est sull'alta Calabria dalla notte. Martirreno mosso, poco mosso lo ionio, temperature stazionarie. La giornata di domenica 13 dicembre di fatti dovrebbe iniziare con qualche nota instabile sulla basa Calabria e sul medio versante ionico. Potrebbe perdurare qualche precipitazione sul medio basso Tirreno fino alla sera. 20 tesi di tramontana, giornata fredda. La tendenza per lunedì 14 ci mostra il ritorno di tempo stabile su tutta la Calabria e ventilazione moderato o forte dai quadranti nord-occidentali. Grazie per l'attenzione, appuntamento al prossimo aggiornamento. Grazie per l'attenzione.